...o Ciccarelli, il 2 Delio Tor con Mauro Cosmi, il 3 Candelario, Massimiliano Collalte, il 4 Decimo Manu Lippi, Gaetano Donnarumma, il 5 Dominatore, Angelo Silvestro, il 6 Druso Nerone GPD, Alfredo Sorrentino, il 7 Dreamer War, Marco Minucci che sostituisce Massimo Rodolfo, seconda fila, 8 Diamante Mangiani Manzone, 9 Dirandoghi Zeta, Alessio Ferrara, 11 Caffè Greco Zeta con Giovanni Iegnello e 12 Dakota De Rume con Jessica Bevilacqua, ha sbagliato in allineamento e continua a galoppare il numero 7 di Dreamer War e allo stacco cerca di emergere con il numero 4 Decimo Manu Lippi ma al suo interno rinviene Candelario, dall'esterno Druso Nerone GPD con Candelario che rientra a Decimo Manu Lippi mentre Druso Nerone GPD si può accodare terzo perché c'è stato il simultaneo errore di Dominatore e anche di Delio Thor e dopo un quarto in veloce in 28 e mezzo comanda Candelario nei confronti di Decimo Manu Lippi, Druso Nerone GPD, quarta posizione per Dakota De Rume con vicino Denis, poi ancora Diamante Man, Dilan Doghi Zeta, sta riducendo sensibilmente l'andatura Massimiliano con l'alti insalchi a Candelario che infatti viene avvicinato da Denis al paletto di metà gara completata in un minuto secco Denis che va a premere su Candelario quando mancano 650 metri all'arrivo su Decimo Manu Lippi si affaccia Druso Nerone GPD, quindi Dakota De Rume i due di testa allungano e prendono qualche lunghezza di vantaggio a Druso Nerone GPD, l'errore per Denis, allora resta in chiaro vantaggio Candelario nei confronti di Druso Nerone GPD che ha scavalcato Decimo Manu Lippi portandosi in seconda posizione, sposta ora dalla corda anche Dakota De Rume quindi Dilan Doghi Zeta, Candelario affronta il netto vantaggio la retta d'arrivo quando mancano 250 metri al traguardo Druso Nerone GPD si impegna al suo inseguimento cede anche il numero 4 di Decimo Manu Lippi superato da Dakota De Rume e Dilan Doghi Zeta nel finale Druso Nerone GPD che sta recuperando su Candelario che però è ancora in vantaggio poi Dakota De Rume sul palo Candelario si salva da Druso Nerone GPD con Dakota De Rume al terzo posto 3-6-11 l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle chiusura lenta con totale di 2 minuti e 9 decimi sul mio cronometro media di 1-15-6 scusate forse 1-15-7 per la vittoria da un capo all'altro di Candelario e Massimiliano Collati per il training di Emanuele Pettinari cala nel finale ma si salva dalla rincorsa di Druso Nerone GPD con Dakota De Rume al terzo posto per i numeri 3-6-11 è tutto lì nello studio grazie grazie